pesaro omaggia la carriera di valentino rossi con un casco da record i valori della fondazione della repubblica ripopolano le piazze monsignor salvucci traccia il bilancio del suo primo mese d'arcivescovo i giardini del porto intitolata all'opera di padre damiani sul san bartolo si fingono 193 bandiere per dire no alle guerre una buona serata a tutti voi amiche e amici di rossini tv ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione serale del nostro notiziario rossini news edizione di venerdì 3 giugno che apriamo continuando ad offrirvi immagini e progetti di una pesaro che continua a cambiare volto soprattutto per quello che riguarda il suo lungomare nel nostro ultimo tg vi abbiamo mostrato l'allestimento per la pedonalizzazione di viale trieste oggi parliamo invece di cambiamenti radicali in piazzale d'annunzio dove c'è già un primo allestimento dedicato ai bambini ma a breve arriverà arriverà un'opera artistica davvero da record quella dedicata alla carriera di valentino rossi non si risenta gabriele d'annunzio ma il piazzale che porta il suo nome nella zona levante del lungomare di pesaro rischia seriamente di essere ribattezzato piazzale dei motori oppure piazzale valentino rossi perché le moto e le sue re diventeranno il tratto distintivo di questa porzione di lungomare da sempre un po meno animata di quella di ponente però si vuole invertire la tendenza e oggi il sindaco matteo ricci accompagnato per l'occasione da buona parte della giunta ha elencato i motivi per cui scommettere su questa zona intanto è stato messo il primo tassello con un circuito allestito grazie alla generosità dello sponsor tomasucci che farà di questa piazza un'area divertimento per i bambini che potranno dilettarsi con piccole moto giocattolo moto che inizialmente custodirà la pizzeria la dolce sosta ma che poi saranno gestite da un food truck altra novità per la zona che stazionerà per l'estate in questo piazzale replicando un esperimento già testato in calata caio d'uilio da luglio invece cambierà radicalmente il volto del piazzale perché sarà installata una monumentale opera artistica dedicata alla carriera di valentino rossi un maxi casco che replicherà l'ultimo indossato in carriera dal dottore un casco da leggenda è il titolo dell'opera che sarà realizzata dalla ditta extra lab di riccione e che sarà inaugurata il 25 luglio alla presenza dello stesso valentino rossi quest'anno abbiamo voluto riprendere sul discorso riqualificazione di piazzale d'annunzio per riuscire comunque sia a dare anche un respiro alla parte all'altra parte di di viale trieste visto che si sia concentrato molto negli ultimi due tre anni sul sulla zona che va verso il porto quest'anno su piazza d'annunzio abbiamo voluto mettere diciamo un po la testa e abbiamo ideato questo luogo che è un luogo a disposizione di famiglie dei più piccoli e incentrato sulla sulle moto moto mondiale moto e venuta questa idea è partita dal fatto che il sindaco ha chiesto di poter realizzare un'opera dedicata alla carriera la leggenda di valentino rossi e allora pensandoci un po siamo riusciti ad arrivare a questa bellissima idea ovvero il casco più grande del mondo le dimissioni del casco sono indicativamente cinque metri e trenta di lunghezza quindi insomma è un'opera abbastanza importante la larghezza di proporzione è circa sui tre metri e sessanta per un'altezza di circa tre metri e sessanta tre metri e ottanta il casco poi viene inclinato di 15 gradi per dargli una posizione più naturale che sono le classiche esposizioni dei caschi quando anche negli stand o comunque nei negozi si espone il casco si espone sempre nella posizione in cui il pilota lo indossa perché se noi appoggiamo un casco per terra la visiera non è naturalmente portata verso a guardare avanti ma a un punto di vista più alto quindi il casco viene realizzato con un estruso di plastica riciclata e fibra che diciamo da un primo una prima forma dopodiché viene lavorato a mano viene resinato tutto per essere lisciato per dargli più resistenza e poi dentro c'è una centina interna che è quella che dà la struttura e che rende stabile il casco a terra con dei contrapesi contiamo di inaugurarla con valentino rossi che ci ha dato la sua disponibilità il 25 di luglio proprio in questo posto quest'area come vedete un'area come dicevo prima ludica dedicata alle famiglie e bambini ci sono delle mini moto ci sono delle sedute il nuovo manto di erba sintetica tutto questo è stato realizzato grazie a un'azienda importante del territorio che è tomassucci che ci teniamo tanto a ringraziare accantonata l'idea di un parcheggio interrato piazzale d'annunzio punterà ad essere una piazza sempre più a misura di pedone e con un occhio estetico attento anche a ciò che lo circonda l'ordinanza per la cosiddetta guerra al brutto di ricci ha infatti portato a mettere mano al restyling dell'hotel vienna e a breve toccherà anche al degradato edificio sovrastante il ristorante l'artista i valori della repubblica ma anche quelli della democrazia dell'europa unita per la pace e anche della parità di genere valori che sono emersi dalle celebrazioni del 76esimo anniversario della fondazione della repubblica attraverso immagini e interviste che vi mostriamo nel nostro servizio dedicato alle piazze di pesaro e di montecchio il 76esimo anniversario della fondazione della repubblica italiana riappropria pesaro della sua piazza dopo due anni di contingentamento da pandemia i tricolori del 2 giugno tornano a sventolare in mezzo alla partecipazione di autorità e cittadini nel cuore del centro storico interventi istituzionali incentrati sul valore di una data sinonimo di quella democrazia avvertita come un bene ancor più prezioso di fronte alla catastrofe umanitaria del conflitto ucraino un pensiero direi doveroso nei confronti di questa popolazione che sta subendo una vera e propria angheria in un mondo in cui noi pensavamo che il convivere dei popoli fosse una cosa ormai raggiunta dover parlare purtroppo di guerra nel 2022 è una cosa che effettivamente non fa bene ma non fa bene soprattutto ai giovani che piano piano stavamo educando ad un periodo a sentimenti ideali di pace di serenità speriamo l'auspicio e soprattutto quello nell'augurare oggi nel farci gli auguri oggi per la nostra repubblica per il nostro paese per la nostra bella nazione speriamo che sia di auspicio anche perché al più presto queste ostilità trovino trovino fine e finalmente capiscano soprattutto i capi di governo capiscono l'importanza della pace in un momento veramente difficile pensieri al valore della repubblica declinatisi al pensiero della crisi ucraina e al valore di un'europa sempre più unita come guida verso la pace noi abbiamo visto che un'europa unita non ha più subito guerra e no se abbiamo una guerra alle porte dell'europa è di un paese che crede chiede di uscire dal controllo di un oligarca per entrare in una democrazia fatta come quella che è nella nell'unione europea ricordare il 2 giugno di 76 anni fa significa ricordare anche una linea gotica particolarmente segnante nella memoria dei pesaresi per pesaro l'esser stata sulla linea gotica è un momento molto segnante che come ha ben ricordato il sindaco è forte nella memoria dei cittadini ovviamente dei più anziani ma in realtà nella memoria dell'intera città assolutamente il centro è stato completamente distrutto e questa è una cosa che segna e che rimane in qualche modo è come ha detto bene il sindaco un insegnamento che spinge tutti verso la pace il 2 giugno ha visto nel pomeriggio la consegna in prefettura di 30 onorificenza all'ordine al merito della repubblica mentre la mattinata in piazza è stata dedicata alla memoria di familiari dei deportati dei lager nazisti con 11 medaglie d'onore alla memoria di altrettante famiglie del territorio vedere tante fasce tricolore per me è una cosa commovente ed è una cosa che rafforza la mia idea di democrazia e di partecipazione il pensiero per queste persone c'è sempre sempre vivo e ogni volta io parlo di memoria non di ricordo perché il ricordo a volte può svanire la memoria invece qualcosa che rimane da pesero a valle foglia altra partecipata festa di istituzioni forze dell'ordine e cittadini anche in una piazza della repubblica di montecchio accompagnata dalla musica della banda giovanni santi di col bordolo e dal coro i cantori della città futura una celebrazione in cui i valori della repubblica si sono accompagnati alla sottolineatura dei valori della parità di genere come ho ricordato non è solo la nascita della repubblica ma è anche la nascita della possibilità dell'estensione del diritto di voto a tutte le donne il 2 giugno uomini e donne si sono recati alle urne per scegliere una forma di governo nuova moderna che tutt'oggi garantisce a noi tutti di vivere in uno stato democratico una democrazia che non va scontata che va coltivata tutti i giorni da tutte le istituzioni da tutti i cittadini non diamo nulla per scontato lavoriamo tutti insieme perché la democrazia regni sovrana perché la democrazia ci garantisca di vivere in pace e ha partecipato alle celebrazioni del 2 giugno in piazza a pesaro anche monsignor sandro salvucci che ai microfoni del nostro marco cadedu ha tracciato un mini bilancio del suo primo mese da arcivescovo metropolita di pesaro diciamo che è un mese in cui ho avuto l'opportunità e continua peraltro insomma naturalmente di incontrare conoscere tante persone andando anche nelle comunità andando incontro alle persone che vivono nel territorio e ricevendole anche tutti coloro che hanno chiesto di potermi incontrare per cui sono giornate molto intense molto belle possiamo dire che vado componendo giorno dopo giorno una specie di mosaico dove davvero incontro la ricchezza delle della storia della vita di persone e di comunità diciamo così le persone impegnate anche a livello non solo ecclesiale ma anche civile sociale e tra tutti gli incontri che ho vissuto durante questo primo mese vorrei mettere di citare al primo posto l'incontro con la comunità carceraria di villa fastigi è stato un momento molto forte molto forte davvero direi che tra tutti gli incontri che ho avuto forse questo direi che è quello che mi ha colpito di più il desiderio di fare comunità è palpabile e io lo colgo in tutte le occasioni in cui incontro le persone ho fatto anche un po questa scelta di essere per così dire il meno possibile chiuso per così dire nel palazzo nell'appartamento e andare in mezzo alle persone nella strada nella incontro alle comunità che vivono nei quartieri e anche nei nei centri limitrofi a pesaro della diocesi di pesaro appunto e trovo davvero sempre tanta accoglienza e tanto desiderio di allacciare rapporti e di approfondire una relazione il desiderio di essere accompagnati nel cammino che ci attende quindi direi che siamo in un tempo da un lato segnato da tante paure e preoccupazioni dall'altra però segnato anche dalla speranza per questo voglia di guardare di guardare al domani e di guardarlo insieme quindi ecco io sono qui per camminare insieme con il popolo pesadese e restiamo in tema religioso passando dalle parole del vescovo salvucci al ricordo dell'opera di padre damiani sono state infatti le mani di tahira studentessa ucraina e di teresa ospite della struttura per anziani a svelare questa mattina la targa in ricordo di padre damiani nato nel 1910 e morto nel 1997 una targa collocata nei giardini di calata caio duiglio dell'amministrazione comunale un momento voluto dai consiglieri giampiero belluce michele redaelli che si erano fatti portavoce della proposta di intitolazione dell'area verde fatta da dire dalla direzione della casa di riposo padre damiani e dal comitato di pesaro dell'associazione nazionale venezia giulia e dalmazia il liceo marconi di pesaro ha vinto la fiera nazionale dell'impresa in azione grazie alla brillante idea dei ragazzi della terza g dal titolo plot è stato infatti premiato a milano un gioco di carte basato sulle teorie dei complotti nella storia dell'uomo complotti visti come i protagonisti principali delle fake news che caratterizzano la nostra quotidianità un gioco di ruolo con il quale divertirsi con gli amici oltre che imparare e migliorare le nostre capacità argomentative si chiama visit gabich la nuova fondazione che unisce albergatori commercianti e operatori turistici della più settentrionale città della costa marchigiana offrendo un ulteriore valore aggiunto alla promozione di questo territorio oggi siamo all'inaugurazione di questa nuova entità della nuova fondazione visit gabice che raggruppa per la prima volta nel nostro territorio tutti gli operatori economici quindi albergatori bagnini ristoratori commercianti e bar quindi diciamo ci sono tutte le eccellenze del nostro territorio che col supporto dell'amministrazione comunale porteranno avanti un unico obiettivo quello di rendere gabice mare una città sempre più bella e sempre più accogliente a gabice mare mancava una realtà che facesse un pochino da collettore di tutte quelle che sono le attività che vengono realizzate tutti gli anni sul nostro territorio serve un'entità che faccia una programmazione di promozione territoriale per la nostra destinazione che abbia una visione a lungo termine e per questo noi albergatori insieme ai commercianti insieme agli bagnini insieme ai ristoratori di gabice mare ci siamo messi insieme e abbiamo costituito questa nuova fondazione affinché questo sogno diventi realtà in cantiere l'estate è già iniziata con tanto entusiasmo molto caldo una grandissima energia positiva e alle porte il grandissimo evento dell'estate 2022 disco diva che chiuderà il mese di giugno il 24 25 26 di giugno con artisti internazionali quindi ci sarà da divertirsi un'estate meravigliosa grazie anche alla fondazione visit che ci aiuterà a renderla ancora più 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 pratica più puntuale più concreta nei servizi che possiamo offrire ai turisti e dalla costa passiamo all'entroterra quello di sant'angelo invado che mercoledì sera ha visto l'ultima tappa del road show vivi le opportunità delle psr marche un ciclo di incontri rivolti ad aziende agricole e agroalimentari della regione per comprendere bandi e opportunità per la categoria e a sant'angelo invado non si poteva non parlare di tartuficoltura ma pure della filiera del legno questi gli argomenti trattati che potrete approfondire nello speciale che trasmetteremo proprio questa sera alle 21 e 20 ma di cui vi forniamo già qualche anticipazione il sindaco di sant'angelo invado stefano parri è il padrone di casa di questo ultimo incontro dialoghi con i territori il tartufo protagonista sant'angelo invado a chiudere questo tour della regione marche in giro per la nostra bellissima regione sì per noi il tartufo è un elemento importantissimo anche nelle economie del paese abbiamo la mostra nazionale il tartufo bianco che stanno avrà la 59esima edizione ma soprattutto importante ringrazio la regione marche di fare questo evento qua in conclusione del road show che stanno facendo sul psr perché sant'angelo si è sempre da sempre qualificata come sito produttivo quindi ha una valenza doppia per noi questi questi incontri qua oggi qui a sant'angelo invado presentiamo la misura 8 che è quella che riguarda la forestazione quindi la manutenzione lo sviluppo e tutto quello che è il nostro patrimonio boschivo e forestale dentro questa misura ci sono cose importanti alcune misure sono state poco utilizzate in passato mentre rappresentano un'opportunità secondo me anche da sfruttare meglio e soprattutto qui dentro c'è anche la misura che riguarda la forestazione cioè tutto ciò che riguarda scusate la tartuficoltura cioè la manutenzione del delle foreste e l'utilizzo anche di alberi e anche la piantumazione di nuovi alberi finalizzati alla crescita e la produzione di tartufo e qui siamo in un centro che per tanti anni ha avuto un ruolo fondamentale il più grande e più importante che c'è di tartuficoltura che fa anche con assistenza tecnica da le piante che hanno già diciamo così avuto una che possono diventare già produttive però ecco questo è un settore che ha bisogno di un grande aggiornamento e anche di un sostegno da parte delle istituzioni un po più profilato molti imprenditori ci chiedono di cambiare di semplificare la misura e oggi è una giornata di confronto istituzionale con le imprese che si occupano appunto di tartuficoltura all'interno di questo centro che è della regione e che forse va anche rilanciato per questo siamo qui per dare anche un segnale a questo mondo che rappresenta non solo un fatto produttivo molto importante ma rappresenta anche un'opportunità di valorizzazione di quella offerta turistica che noi vogliamo sviluppare attraverso prodotti e attività come quella della tartuficoltura ma anche della ricerca del tartufo naturale che per alcuni può rappresentare davvero un'esperienza turistica quella della cerca del tartufo. Ancora premi per le scuole pesaresi e in questo caso parliamo del Bramante Genga di Pesaro che con la classe quinta a T ed un alunno della quarta H dell'indirizzo tecnologico si sono classificati al primo posto del concorso Learning by Doing indetto dai giovani imprenditori di Confindustria Marche. Gli alunni hanno proposto il progetto di un ponte in legno ciclopedonale panoramico ed eolico da realizzare alla foce del fiume Foglia per collegare l'area portuale con la spiaggia di Baia Flaminia. Un progetto che mira ad implementare la rete ciclabile della città con aree di servizio per il bike sharing, parcheggi e ricariche alimentate da turbine eoliche installate sul ponte. Oggi venerdì 3 giugno si celebra la giornata mondiale della bicicletta e per l'occasione il comune di Pesaro annuncia l'inaugurazione del museo della bicicletta in programma per sabato 11 giugno alle ore 10 a Palazzo Gradari alla presenza di Valentina Vezzali sottosegretaria di Stato alla presidenza delle consiglio dei ministri con delega allo sport. Grazie alla cura scientifica di Dario Corsi qui sarà possibile ammirare 40 biciclette da corsa in un excursus cronologico dal 1930 fino ai giorni nostri. Dalle bici alle moto perché il team MR Racing di Curosini TV e Media Partner ha fatto tappa con il pilota Matteo Morri al circuito di Cremona per alcuni test in vista del prossimo appuntamento del campionato italiano Moto3 al Mugello del 18-19 giugno. A Cremona il team si è trattenuto in circuito anche per partecipare alla seconda prova del trofeo Motoestate di cui Matteo è l'attuale detentore del titolo. Un ritorno di fiamma per Morri che dopo delle qualifiche che gli hanno garantito il secondo tempo di categoria in gara ha dato il meglio di sé con una gara strepitosa, numerosi sorpassi e il traguardo tagliato in seconda posizione. E sul San Bartolo fra Pesaro e Gabice c'è un luogo di rara bellezza come l'oasi della fondazione Oikos che da ieri e fino a domenica è teatro dell'Ecofest Experience, un festival all'insegna di pace, cultura, arte, musica e soprattutto rispetto per l'ambiente. Ieri 193 artisti da tutta Italia si sono riuniti qui per dipingere su una maxitela di 530 metri qualcosa di davvero straordinario, ovvero 193 bandiere, quelle in pratica di tutto il mondo unite per dire no a tutte le guerre. Oggi è un grande piacere avere con me qua insieme tante persone che hanno voluto dedicare il loro tempo a questo momento importantissimo per testimoniare la loro presenza in questa manifestazione dedicata alla pace per una pace senza confini. Sono veramente emozionato anche perché l'opera che vedete alle mie spalle è veramente unica, 193 bandiere che verranno disegnate dal vivo su una tela lunga 530 metri. Diciamo sempre che il parco è un parco da vivere, deve essere un parco da vivere e iniziative come queste lo dimostrano a pieno. Chiaramente ci vuole l'intraprendenza di una figura come Balestri che non solo da anni cura questo luogo ma da due anni anche attraverso la fondazione Oikos sta cercando di fare cose importanti e sempre di più per proprio quello che è anche un po' la finalità della nostra capitale 2024, cioè tenere insieme natura, cultura e farlo attraverso la sostenibilità a partire anche dalla sostenibilità delle vernici che si utilizzano oggi per fare questo opera d'arte mandando un messaggio di pace in un momento come questo con questa bandiera enorme di oltre 500 metri con tutte le bandiere del mondo ad abbracciarsi per offrire una cartolina unica a chi ha la fortuna di passeggiare qua in prime escursioni qui nel sentiero di chi viene apposta anche da fuori per partecipare all'evento di oggi e soprattutto per poter in un momento come questo tra il blu del mare, il giallo delle ginestre peraltro molto ben curate e appunto un po' il sogno di un luogo come questo che prende vita veramente costruire qualcosa di importante per tutti. E quello che avete appena visto è stato solo un piccolo estratto dello speciale dedicato all'EcoFest Experience che andrà in onda su Rossini TV lunedì 6 giugno alle 21.20. Si conclude qui dunque questa nostra edizione delle telegiornale Rossini News e sarà un altro speciale a occupare la prima serata di questo venerdì 3 giugno ve l'abbiamo anticipato con un piccolo estratto del nostro Tg. Vivi le opportunità del PSR Marche, il road show di dialoghi con il territorio per presentare bandi aperti e in emissione soprattutto del settore agricolo si è concluso a Sant'Angelo invado un appuntamento che potrete rivivere questa sera alle 21.20. L'informazione di Rossini TV poi torna puntuale domattina alle 7.20. Come sempre in diretta rassegna stampa del sabato Buongiorno Rossini che per l'occasione sarà condotta da Marco Cadeddu. E invece si conclude qui questo spazio informativo. Da parte mia e di tutta la redazione di Rossini TV vi auguro una buona serata e un buon weekend in compagnia dei nostri programmi.